Ciao a tutti e benvenuti con i preferiti del mese di giugno bambini Allora, preferiti, non so se ne ho parlato già di alcuni preferiti in un video precedente Però se sono preferiti, se sono preferiti Ah è giusto, ovviamente anche in questo momento, anche in questo video il mio assistente Ciao, chi sei? Batman Batman e poi? Superman Ah, o sei Batman o sei Superman? Batman Sei Batman? Sì Saluta Batman è raffreddato Va bene, Batman vai a giocare e prendi un gioco tuo preferito Questo? Quello è il tuo gioco preferito? Sì Non ne hai un altro più bello? Qual è il tuo gioco preferito di questo mese? Mostramelo Non è quello secondo me Sì, non ne ho Quello è il tuo preferito? Lo facciamo vedere? Sì E vediamo Allora, questo è il gioco preferito del mese di Claudio Quindi le costruzioni Cosa hai costruito? Il garage Ha costruito un garage Quindi questo è il garage di Claudio Ok, grazie E andiamo avanti Con le altre costruzioni Le abbiamo fatto vedere Con le altre costruzioni Con gli altri preferiti Allora, preferito del mele Del mele? Sì, del mese Ovviamente Questo Che è il mio nuovo zaino Ergo Baby Che ho comprato su Amazon Ormai a maggio Claudio Attenzione A maggio Ed è praticamente Un marsupio Molto più comodo Rispetto a quello che forse avevo prima Già, forse Che avevo prima Il Baby Bjorn Ma più comodo Perché la bambina Ha proprio spiaccicata A me Con le gambe Totalmente divaricate E ha una seduta Molto più ampia Per quello mi piace Poi ha i taschini Qui molto carini Aspetta, aspetta Aspetta Quello faccio vedere Molto carino Perché ha queste taschine Quindi in realtà Tu puoi anche uscire Solo col marsupio Come faccio io Ogni tanto Se devo andare veloce La mattina Devo andare a fare solo la spesa Metto i soldi E il telefono Qui E mi porto la bambina Nello zaino Anche perché Claudio La mattina Sta al nido Ora c'è un Un attacco Di faringite Al nido Quindi ho deciso Di lasciarlo a casa Di tenerlo a casa Altro preferito Del mese Un orologio Un orologio Della Flickflock Swatch quindi Praticamente La Swatch Ha fatto questa linea Flickflock Con tutti i supereroi C'è Batman Questo che cos'è? Piderman Piderman C'è Superman Ce ne sono una serie E a Claudio Ovviamente Claudio ama i supereroi E ha scelto questo Molto carino Non costa poco Nel senso che È un orologio vero e proprio L'ho pagato 40 o 45 Però Gli volevo fare Un regalo Comunque A lui piace Che ore sono Claudio? 10 e 20 Dice sempre che sono Le 10 e 20 In realtà non sono Le 10 e 20 Però vabbè Glielo lasciamo credere Ok? Sono le 10 e 20 Questa Altro preferito Del mese Questo libro Allora Dove ero a Monopoli C'era una Questo giugno C'era una libreria Per bambini Bellissima E ho comprato Una serie di libri Tra cui Questo qui Sono mini libri Una fiaba in tasca Edito Edizioni E L Pagato 4 euro E questa è la storia Di Peter Panda Leggere veramente In 5 minuti La sera Prima di andare a dormire Però ce ne sono Una serie Di Di storie Gatto con gli stivali Capuccetto rosso Ansel e Gretel Tantissime Molto carino Come libro Molto carino Tu hai la maglia sporca Di Di merendina Va bene E quindi questo Poi Facciamo vedere Qualche altra cosa Rimaniamo in tema libri Vi faccio vedere Quello che ho letto io Invece Questo qui Perché è come curare Con l'omeopatia Il tuo bambino Lo sapete che io sono Un po' fissata Ormai con il discorso Omeopatia Quindi cerco di curare Dov'è possibile Appunto I bambini Con remedi naturali E lui c'ha la maglietta Di Batman E lui c'ha la maglietta Di Batman Questo è scritto Da Carlo Tonnarelli Che ha anche Un gruppo su facebook Dove sono iscritta Io mi curo con l'omeopatia Mi sa che si chiama Pagato 19,50 Preso su Amazon E appunto Spiega Tutti i rimedi Vari Per curare i bambini Con l'omeopatia Perché l'omeopatia Diversi tipi Di Omeopatia Cioè di cure Omeopatiche Molto interessante Carino Mi piace Questo l'ho letto Praticamente Questo mese Poi Andiamo avanti Con Questi Allora Ne ho diverse A Bari Le potete trovare Da Fiori Blu Ma io le ho comprate Su internet Da Lara Coccola Un paio d'anni fa Per Claudio E poi L'ho ripreso Per Carlotta Forse da Fiori Blu Non da internet E sono praticamente Questi teli Di cotone Molto carini Questo con le stelle Ma ne ho altri A righe E sono della Aden Più Anais Aden And Anais Punto com Molto carini Molto carini Molto carini E io li uso Per sempre Praticamente Per uscire la mattina Per proteggerli dal sole Per proteggerli dal vento Dalle intemperie E da tutto Altro preferito Altro preferito Del mese Angstrom Bambini Questo è uno spray Che è 50 più Quindi protezione molto alta Che ho utilizzato Perché è trasparente Quindi mi piace molto Siccome io ovviamente A loro Spruzzo protezioni In ogni dove Compresa la testa Sia di uno che dell'altro Non mi andava di mettere Crema in testa Perché comunque Con i capelli Si impastrocchia tutto E invece questa Perlomeno rimane trasparente Fermo Rimane trasparente Questa è Asciuga subito Questa asciuga subito Trasparente Appunto antisabbia Applicazione multidirezionale Resistente all'acqua Molto buona Dell'Angstrom Andiamo avanti Scusate Oggi Andiamo avanti Con un altro prodotto Questo qui L'Edom Complex È un complesso Idratante lenitivo A base di essenze Ed estratti vegetali Che io utilizzo Dopo le punture di zanzara Dell'Omio Farm All'interno All'interno ha Eucalipto Glicerina Calendula Arnica Iperico Limoncello Sempre Limone Ed è appunto Un complesso Che lenisce Le punture Delle zanzare Dove stavamo C'erano Zanzare tigri In ogni dove Con questo Più o meno Abbiamo risolto Bavallino Preso da Amazon Per Carlotta Ho scelto questi qui Ne ho presi due Della Chicco Ecco Anche Carlotta Si è svegliata È appunto Un bavallino Che ha la particolarità Questi sono adatti Proprio ai bimbi Che bevono ancora il latte Perché ha la particolarità Di avere questa parte Più imbottita E quindi Di evitare Che si bagnino Con il latte Della Chicco Molto carini E poi si può attaccare Anche il ciuccio Poi Abbiamo iniziato Di nuovo A prendere Vi lascerò il link Qui sotto Di un video Che ho già girato In precedenza Dove parlavo Di questo prodotto Abbiamo iniziato A prendere La mattina Il miele di Manuka Ora A Claudio Inizierà una cura Di prevenzione Per l'inverno Di prevenzione Per l'inverno Penso Ad agosto Però ho già iniziato Ogni giorno La mattina A dargli Il miele di Manuka Questo ha MgO30 Più E appunto Miele Molto buono Antibiotico Quasi Cioè Delle proprietà antibiotiche E io Do a lui Un cucchiaino La mattina In realtà Lo prendo anch'io Vediamo appunto È sempre una forma Di Di prevenzione In più Appunto Si può assumere Dal Dal primo anno Di età Poi Ultimo Prodotto Ah no Due prodotti Ancora Questi qui Pannolini Che utilizzo per Carlotta Perché Claudio ormai Li ha tolti Della Selex Primi anni Sono molto buoni Hanno un costo più basso Rispetto agli altri pannolini E io mi sto trovando Veramente bene Li trovo al doc Qui a Bari Però li vendono anche Famila Vende I prodotti Della Selex Non mi ricordo Che altro supermercato Pagati forse Intorno ai 3 euro Massimo E Vabbè Buonissimi Come prodotti Come pannolini Ovviamente Si prendono a Carlotta 4-9 kg Poi Ultimo prodotto Che vi voglio mostrare Questo qui Ed è una specie di Profumino Di Zara Zara mini O de toilette Che in realtà Ho preso per me Che in realtà Ho preso per me Ma ovviamente Si può utilizzare Anche sui bimbi Molto buono Molto delicato Da proprio di bimbo E Pagato mi sa 6 euro Non c'è scritto L'ingredienti Non ci sono scritti Gli ingredienti Però mi piaceva Appunto Piccolino Così Da mettere Come acqua Acqua Perfumata Ecco La mattina Mi piace Ed è questo Quindi questi sono Tutti i miei prodotti Del mese Bambino Spero il video Vi sia piaciuto Ovviamente Ricordatevi Se vi piace Il video Un like Qui sotto Se avete altri prodotti Da suggerire Scrivetemi E io Come al solito Sapete che Leggo e provo E nulla Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Saluta Eh non ti vedono Di lì Ciao Neanche di qui Vai Saluta Ciao Ciao